Live! Buonasera a tutti, questa è la puntata zero di Cloud Champions, sono qui con Andrea Saltarello, io sono Roberto Messora, ciao a tutti, siamo qui perché abbiamo la necessità di raccontare che cosa è Cloud Champions, che cosa sarà Cloud Champions e quindi ho l'onore, lasciatemi passare questo termine, di intervistare l'ideatore di Cloud Champions, che è appunto Andrea, e quindi la primissima domanda che ti faccio è ovviamente la domanda più semplice del mondo, ma anche quella fondamentale, che cos'è Cloud Champions Andrea? Cloud Champions è un momento per raccontare delle storie di Cloud Computing, che è un fenomeno che a livello di mercato, oramai mercato ICT, sembra avanzare inesorabile, abbiamo pensato che ci fossero delle storie interessanti da raccontare, anche perché attorno a Cloud, a quello che è Cloud, c'è ancora un po' di Cloud, e quindi un appuntamento di questo tipo, un format storie di Cloud raccontate dai social protagonisti, ecco. Ok, quindi mi par di capire che sarà una sorta di storytelling intorno a tutto quello che è il Cloud, ma ci sarà un format particolare per questo tipo di iniziativa? Allora sì, il format è piuttosto semplice, si tratterà di una serie di chiacchierate, interviste, una parola fin troppo impegnativa, e quindi chiacchierate, un po' come quella che stiamo facendo in questo momento, avverranno a partire dal 16 marzo, un martedì sì, un martedì no, alle 18.30 di sera. Diciamo che la durata sarà nell'intorno ai tre quarti d'ora, un'ora, dipendentemente da quanti argomenti avremo da coprire, ma anche, visto che la trasmissione sarà live in streaming, come adesso, anche dipendentemente dalle domande che arriveranno nella chat. Ok, quindi sproneremo sempre i partecipanti a fare domande, a valle della live il video rimarrà disponibile poi sul nostro canale YouTube, e la registrazione audio sarà disponibile anche come podcast, partiremo con Spreaker, Apple Podcast e Spotify Podcast, poi vedremo, insomma. Beh, mi sembra assolutamente un'iniziativa, dal punto di vista anche della diffusione, molto interessante in questo senso, soprattutto l'abbinamento del live su YouTube e eventualmente immagino che ci saranno anche altre piattaforme che si potranno aggiungere poi a YouTube. Sì, beh, abbiamo per esempio un canale Twitch, che abbiamo già usato in passato per lo streaming di alcuni eventi. Quindi diciamo che impareremo e miglioreremo strada facendo per tutta la parte di produzione. Diciamo che all'inizio sarà tutto contenuto e produzione ingenua, speriamo nel tempo di affiancare a dei contenuti che secondo noi sono di valore importanti anche una produzione all'altezza. A questo punto la domanda sorge spontanea, come diceva qualcuno, perché ovviamente moltissimi ti conoscono perché sei il presidente di UG.net, ti hanno visto in mille conferenze diverse a partire dai Community Days, agli eventi di UG.net, CodeMotion, a chi più ne metta. L'idea che mi viene in mente è Cloud Champions, si parla di cloud e quindi di tecnica, di tecnicismi, di tutto ciò che riguarda la tecnologia del cloud o che cosa? Ok, allora, hai detto una cosa che mi aspettavo, cioè io mi rendo conto che per una serie di motivi vengo molto collocato in una casellina tecnica. In realtà Cloud Champions vuole essere una storia a più ampio respiro, vuole parlare di contenuti tecnici, avremo dei contenuti tecnici importanti, ma vogliamo parlare anche di storie di business legate al cloud, opportunità che probabilmente senza il cloud non sarebbero esistite o non così facilmente. Provo a fare degli esempi, suoneranno un po' come spoiler, va bene, mi rendo conto, però ci aiuteranno a capire di cosa parlerà Cloud Champions. Prendo le prime puntate, per esempio. Ecco, raccontaci appunto chi saranno gli ospiti, se già c'è una scaletta di ospiti. Abbiamo una scaletta, quindi spoilererò le prime, boh, tre, quattro, cinque puntate. Quindi, per esempio, partiremo, diciamo col botto, è apparentemente in contrasto con quello che ho appena detto, quindi non solo tecnico, perché partiremo con, se ci marcio con Davide Mauri. Davide Mauri è un senior program manager del team di Azure SQL in Microsoft Corporation. E quindi, con Davide, per esempio, parleremo di come la codebase di SQL Server, quello usato on-premises, sia stata rivoluzionata nell'ottica di diventare un servizio pass, quindi una versione clavizzata, e anche qual è stato il tipo di mindset che gli sviluppatori hanno dovuto acquisire per affrontare una sfida così importante. Quindi avremo sicuramente una parte di tecnica importante, dato il tema, dato il personaggio, ma anche poi una parte di, vogliamo chiamarli soft skill, crescita personale, pure come dev. Seconda puntata, avremo qualcosa di totalmente diverso. avremo l'avvocato Andrà Palumbo, quindi un avvocato che parlerà di temi importanti, perché al netto dei classici privacy, GDPR, ci sono anche temi interessanti, come la recente estensione dell'applicabilità della legge stanca, anche a dei soggetti privati. e quindi occhio a fare il tuo prodotto SaaS che poi attesti su una cloud per venderlo e a non sapere questa cosa perché ti precludi una fetta di mercato. O i temi di residency dei dati, che è un po' il motivo per il quale i vendor grandi stanno correndo per avere Amazon, per esempio già ce l'ha, la region in Italia, perché la residency dei dati è un tema. Però adesso, senza poi andare più in ordine cronologico, ma avremo Daniele Ratti. Daniele Ratti è il CEO di Fattore in Cloud. È una bellissima storia di uno sviluppatore che ha potuto creare la sua startup di successo e trovare un'opportunità di un po' exit, un po' partnership quando è entrata Team System, però diamine che ha potuto arrivare a quel momento servendo già oltre 20.000 clienti, se ricordo bene, e questo si può fare per servire 20.000 clienti quando ne hai soltanto 50 e non sai quale sarà la tua rampa, non hai più bisogno di avere pronto il data center, ma puoi usare delle piattaforme elastiche, scalabili, che ti permettono di non avere costi di up front. Questa cosa vent'anni fa non sarebbe stata possibile, di avere sempre bisogno del tuo data center e sostenere costi up front. Però, per esempio, in un mondo dove oramai compriamo anche l'abbonamento dei giochi, il Game Pass, l'Apple Arcade, parleremo di gaming con Francesco Carucci. Francesco Carucci è una persona che ha una storia incredibile. in Microsoft Game Studios, Fable 2 per PC, Xbox, per poi andare in Crytek a implementare il CryEngine e Crysis per iOS, poi andare in Apple, sono stato parte del team che ha implementato Metal per macOS ed iOS, e adesso in Google a spiegare a colossi come ottimizzare il gioco per la GPU. Diciamo che il gaming oggi non è più soltanto la console, ma è qualcosa che col cloud ha molto a che vedere. Il gaming di rete, quella roba è back-end. Microsoft, per video gioco Halo, ha costruito Orleans, che è un framework di actor model per gestire il back-end del gioco in rete. Avremo Simone Procopio, che è il CTO di Il Giornale IT, e Marco Viganò, che è il CTO di Condenast Italia, per parlare di interessantissime storie in cloud, come magazine, giornali, che hanno picchi, perché esce la notizia dell'evento importante, o c'è la partita di calcio, e allora devi poter gestire il picco e le CDN. Ultimo esempio, avremo una ricercatrice italiana, è una psicologa, si chiama Federica Pallavicini, ha un team di ricerca in Università di Bicocca, Milano, oltre ad essere professoressa a contratto per l'università, e sono dieci anni, che studia gli effetti dell'immersività sulla psicologia umana, ma anche con i visori, in realtà mista virtuale aumentata, e sarà anche un po' il contesto pandemico, ma non ci dovrebbe essere sfuggita la quantità di investimenti che la Fesum, la Microsoft di turno, stanno facendo per un mondo di distanciate remoti, il together mode di Teams, e quindi un bel pacchetto eterogeneo, secondo me, ecco. Mi parli capire quindi che gli obiettivi sono molto, molto alti, stiamo portando l'asticella veramente in alto, perché mi sembra di capire che legal, gaming, addirittura la psicologia, insomma, il cloud è diventato pervasivo, e probabilmente quello che è nella tua testa, correggimi se sbaglio, è quello di comunicare in questi incontri il più possibile quali sono le implicazioni del cloud a 360 gradi. Allora, sì, secondo me è colto il punto, e questo, tra le varie cose che mi è capitato di fare, io sono founder di un evento che si chiama Cloud Day, abbiamo già avuto due edizioni, l'ultima ottobre dell'anno scorso, spoiler, avremo la terza edizione quest'anno, e a chiunque fosse capitato di assistere per esempio al mio keynote o di aver letto il wording, la descrizione dell'evento, ce l'ha scritto perché cloud non è hosting 2.0. E questo è il concetto che io sto provando a comunicare, e Cloud Champions vuole comunicare, cioè cloud è un'opportunità, è un'opportunità come tutte le opportunità, anche una componente di rischio d'errore, perché nell'innovare, quando cambi, è facile non riusci a sbagliare, ok, ma anche soltanto non vedere come fare cosa, vedere che c'è un modo diverso. pensiamo a come cloud e la potenza di calcolo del cloud abilita scenari di intelligenza artificiale tramite modelli preaddestrati, oppure la possibilità di prendere il tuo modello e di fare il training, invece che un premises in cloud, più rapidamente o meglio, perché il dataset può essere più grande, perché hai un muscolo che difficilmente potresti avere on-premises o anche soltanto in un classico caso di hosting a botte di virtual machine. Ok, quindi sì, hai colto il punto. Vogliamo parlare di cloud per quello che il cloud è davvero, permesso che tutti lo stiamo ancora scoprendo, perché è ancora un po' Klondike, ok, il cloud. Ed è l'idea di viverlo assieme, anche parlandone, mostrando storie che ci ispirino, che ci facciano riflettere e poi magari qualcuno, guardandolo, arriverà poi ad avere la sua stella da raccontare e noi saremo qui. Dico noi, perché, vabbè, Roberto, ogni tanto capiterà anche a te di dover essere quello che intervista e quindi è un noi vero, non è un noi, per voler parlare al plurale, per essere inclusivi, è un noi perché è noi, facciamolo, facciamo cloud, facciamo cloud champions, parliamone, e wow, dai. Benissimo, siamo arrivati alla fine del nostro quarto d'ora di chiacchierata di questa puntata zero, l'hype, devo dire, che almeno da parte mine è altissimo, quindi non vedo veramente l'ora che arrivi martedì 16 marzo, alle 18.30, avremo Davide Mauri, quindi la prima puntata sarà tech, perché in qualche modo dobbiamo almeno non smentirci per quella che era nostra, anche perché Mauro, sappiamo tutti che è un amico e ci fa un grandissimo piacere ospitarlo, e quindi niente, diamo appuntamento a martedì 16 a tutti e speriamo che sarete in tanti. Grazie Andrea, a martedì 16 a presto, ciao a tutti, ci vediamo il 15 marzo, ciao. Ciao, ciao.